A livello sportivo ci è cambiata la vita perché abbiamo fatto qualcosa che nessuno è riuscito mai a fare, quattro trofei su quattro giocati, un unplane incredibile, pianificato perché le nostre squadre da quando abbiamo fatto il triplete, quindi dal 2018, non è che ci siamo fermati, abbiamo fatto delle squadre sempre molto forti, abbiamo investito molto. Abbiamo cercato sempre di non far cadere quel momento magico del triplete nel 2018 facendo squadre forti e quindi l'altra sera quando abbiamo una cena dei nostri sponsor qualcuno mi ha detto ma se l'aspettava un'ingozzata di trofei così, io gli ho detto in fondo sì perché comunque nel corso di questi anni dopo il triplete, quindi dopo il 2018, abbiamo fatto belle squadre e abbiamo vinto una o due trofei ogni anno, quindi c'era nell'aria questa continuità. La continuità è andata e è arrivata alla grande con quattro trofei su quattro, un grande slam come ne chiami tu e devo dire che siamo diversi, siamo una squadra diversa, vedo come interagiscono gli altri nei nostri confronti, ci vedono come qualcosa di molto interessante, qualcosa di molto curioso da osservare. Direi un po' di più che curioso, curioso nel senso che sono curiosi, ti guardano in modo interessato, ammirato diciamo così. E quindi ecco, questo tipo di evento è chiaro che ti cambia la vita a livello sportivo e quindi devo dire che i nostri sforzi, quello dei nostri sponsor sono stati ampiamente ripagati perché davvero vincere così a man bassa tutto e gli altri niente è stata veramente una bella cosa.